Oggi abbiamo preso la scatola rossa e fatto un trekking. Siamo partiti dal passo della bocchetta, dove potete trovare questa panchina gigante arancione. Il passo dista circa un'ora da Milano e mezz'oretta scarsa da Genova. Il trekking fa parte di un tratto dell'alta via dei Monti Liguri. Esso ci ha condotto sul Monte Taccone, con la sua distintiva croce che dalla vetta regala panorami fantastici. Il trekking è abbastanza semplice, si sviluppa per circa 15 chilometri con un dislivello di 400 metri circa. Ora gustatevi i panorami che abbiamo filmato per voi. Un saluto dai viaggi di Giulio e Gaia. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!